Nel quarto appuntamento con Missione Salute Marche Nord di istruzioni per l'uso parleremo delle nuove frontiere della neurochirurgia che attraverso sofisticati strumenti ad alta tecnologia come il neuronavigatore, il microscopio ad alta magnificenza ed il neuroendoscopio consentono ai medici dell'equipe del dottor Morabito responsabile dell'unità operativa di neurochirurgia del San Salvatore di praticare in sicurezza e con accuratezza interventi chirurgici ad alta precisione. Proveremo a fare un riassunto di tutta l'attività che svolge la neurochirurgia dopo dieci anni di attività in cui si è sviluppata in tutte le direzioni dal sistema nervoso periferico del racchide fino alla patologia del sistema nervoso centrale anche con una complessità particolarmente elevata. Soprattutto l'utilizzo dei monitoraggi intraoperatori sia per quanto riguarda l'attività corticale che per quanto riguarda l'attività del midollo perché sempre di più la neurochirurgia si sta specializzando in un buon risultato funzionale anche negli interventi di particolare impegno di esportazione di tumori anche in zone che prima non si potevano operare per la loro attività funzionale. Come sempre nella seconda parte della puntata voi telespettatori potrete rivolgere domande ed osservazioni direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando Fano TV allo 0721 86 1433 dalle 20 e 45 in poi dopo il Tg occhio alla notizia.